ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario combo sprint informazioni commerciali titolare chemifarma spa concessionario chemifarma spa confezioni combo sprint mangime complementare 100 ml formulazione additivi per chilogrammi vitamina e 5000 mg necinamide 150 mg vitamina b61 5000 mg vitamina b2 2000 mg vitamina b6 6 1500 mg vitamina b6 e 12 30 mg dipantenolo 1000 mg acido folico 100 mg l carnitino 80.000 mg di l metionina 30.000 mg l lisina 10.000 mg l treonina 2000 mg l arginina 5000 mg acido l glutammico 1500 mg acido aspartico 1500 mg glicina 2000 mg emulsionanti ed ecipienti cubi a 1000 ml indicazioni combo sprint apporta una corposa quantità di creatina in forma liquida quindi facilmente assimilabile fornendo una riserva energetica importante consente inoltre di assicurare una preparazione corretta agli eventi per preparare i soggetti alle competizioni mentre ai dosaggi minori rappresenta un'ottima integrazione per il mantenimento del loro corretto tono muscolare posologia colombi 6 ml per litro di acqua da bere per 48 giorni precedenti l'ingabbio sospendere il giorno dell'ingabbio al rientro dosare 2 ml per cicli di 15 giorni come mantenimento fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato